nome licea ronzulli età 47 appena fatti formazione laurea scienze femministiche e tecnologie della psicologia in organizzazione lavoro professione politica ormai da tanti anni con che partito si candida e in che collegio mi candido con forza italia nel collegio como che abbraccia lecco como e sondrio mi candido in tutta la lombardia nel proporzionale sono candidata anche nel proporzionale in piemonte e nel proporzionale in puglia chi è il suo punto di riferimento politico il presidente silvio berlusconi un motivo per cui dovrebbero votarla uno solo ce ne sono tanti però per esempio tutta la battaglia che abbiamo condotto a favore della conciliazione lavoro famiglia già che è partita già nel 2009 al parlamento europeo che poi proseguita anche in questi anni al senato cosa farà per il territorio lecchese quando sarà eletto sicuramente cercherò di occuparmi di viabilità perché è davvero difficile arrivare a lecco qual è il suo cavallo di battaglia ma ce ne sono tanti però tendenzialmente tutta la parte sanitaria e sociale di attività Grazie a tutti.